allora buongiorno video di aggiornamenti numero numero tre mi pare sì non come zp che mette numero quattro dopo vabbè sì cosa vabbè diamo un'occhiata agli iscritti per vedere può ringraziare un po' tutti 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 no sbagliato avuto eccolo qui ok 124 iscritti e quindi avevo fatto il video per i 100 quindi ringrazio avevo fatto il video per i 100 quindi ringrazio i nuovi 24 e ringrazio i vecchi 100 per il supporto e sono contento sono contento e niente quindi appunto questo video è stato fatto perché sfogliavo la mia agendina qua e vedevo che vedo che ho qualche buco per i vari video quindi che cazzo ho detto insomma se avete qualche richiesta per qualche gameplay fatela pure fatela pure me ne sono già arrivate un paio tra tutte a prestation 1 non che mi da fastidio ma insomma per cambiare un po' insomma però insomma se avete richieste fatela fatela tranquillamente cercherò di magari sceglierò giochi che conosco un po' meglio non come ieri che tra l'altro il primo su richiesta che me l'ha fatto xx del youtube xx ma poteva chiedermi qualsiasi cosa io eseguivo poteva chiedermi anche mario smissing e io vabbè no mario smissing no però poteva chiedermi qualsiasi cosa e io la facevo e poi 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 però finito porta bellissimo 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 e poi 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 magari qualcun interesse come ho usato i 30 euro del concorso parliamo di videogiochi che ringrazio mi inchino praticamente ho usato i 14 euro ho preso bastion che ci ho giocato già un paio d'ore è bello 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 lo consiglio per adesso è perché è bello 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 poi non neanche ho pagato quindi è bellissimo e poi poi a 15 euro ho preso from dust e devo ancora provarlo e non so invirvi assolutamente niente e quindi non lo so non lo so poi mi hanno concesso anche di sforare quindi ho comprato proprio resto di portal ho preso portal 2 the final house che non ho idea di cosa sia devo ancora provare anche quello che sia un dlc di portal che spiega un po quindi si potrebbe anche dire che il primo dlc che ho acquistato no non l'ho acquistato ma non è dato loro quindi devo ancora comprare dlc non ho preso neanche un dlc e non lo comprerò neanche mai penso e vi state chiedendo se from gameplay di bastion e from dust io rispondo che non lo so perché perché ho visto i requisiti minimi di from dust e non so neanche se ci arrivo quindi non lo so non so neanche se mi va e invece bastion mi va va benino qualche volta qualche rallentamento ma poco quindi insomma non so non so con fraps com'è com'è verrà ma ricicloverò vedremo 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 e basta dai chiudo qui il video ci vediamo il l'ho postato al 4 quindi io cerco di postare un video ogni 5 giorni quindi il 9 settembre con un altro tempo io ho già deciso cosa fare il 14 si vabbè comunque se avete richiesto fatele fatele e basta il saluto ciao ciao